prodotti giustizi e hanno avuto danni e hanno avuto danni considerevoli insomma dal caso B-Pop Carrier e il caso B-Pop Carrier purtroppo per tutta una serie di cose alcune delle quali le citerò dopo sta purtroppo avviandosi verso una soluzione che è quella che ho definito una bolla di sapone nel senso che uno scandalo tra i più gravi di risparmio tradito causa il tempo che passa e l'ipocrisia che c'è attorno a tutti questi casi. Oggi per esempio tutti i giornali riportavano la presenza dell'amministratore delegato Matteo Arpe di Capitaglia assieme alla Presidente della Fondazione Manodori che è venuto come viene ogni tanto a fare delle visite pastorali a Reggio, pastorali tra virgolette, a dare un po' di beneficenza. Come? La dicevo di guida, pastorale in che senso? Pastorale perché a un certo momento la Fondazione Manodori ha bisogno a un certo momento di avere ogni tanto questo Matteo Arpe o qualche manager di Capitaglia per giustificare il fatto che lei investa il 90% del proprio patrimonio e la domanda che vorrei fare è se un consulente finanziario vi proponesse di investire il 90% dei vostri risparmi in un solo titolo azionario se voi meriterebbe la vostra fiducia. Io penso di no perché anche un qualsiasi cassiere direbbe che a un certo momento i risparmi vanno diversificati in tanti strumenti. Però oggi Matteo Arpe è venuto qua a dire che la Fondazione fa bene e non poteva dire altro perché Matteo Arpe ha proprio bisogno diciamo così di un socio importante come la Fondazione Manodori che non penso abbia un atteggiamento particolarmente critico non solo su vari aspetti vabbè con lui non c'entra me e allora dico l'ho chiamata visita pastorale perché periodicamente Matteo Arpe viene qua fa un pochino di beneficenza alla nostra comunità per far dimenticare uno scandalo che ha prodotto un disastro in termini di distruzione di risparmio che non ha uguali negli ultimi anni in nessuna comunità se non quella bresciana che ha avuto un danno come questo insomma indubbiamente. Quindi da quanti anni non si conosceva uno scandalo di questo tipo? Insomma dall'epoca dello scandalo della vecchia banca Ambrosiano Veneto dall'epoca ancora precedente ma certamente uno scandalo che ha distrutto 10 miliardi di risparmi secondo calcoli delle associazioni nazionali consumatori allora dicevo comunque ritornando a prima che diciamo così alcuni nostri iscritti della Liguria ci hanno prospettato la possibilità di avere Beppe Grillo ad una manifestazione che stiamo valutando di fare il primo di dicembre davanti al tribunale di Milano dove inizia l'udienza preliminare e dopo che a un certo momento il processo penale ha avuto un ridimensionamento drastico per non dire di più ecco e allora siamo stati contattati da questi amici di Beppe Grillo di Savona e poi dopo questi amici di Beppe Grillo di Savona hanno contattato quelli di Reggio, quelli di Brescia e di Milano e quelli di Reggio mi hanno chiesto di essere qua presente mi fa molto piacere venire a parlare con dei giovani che sono impegnati penso io civilmente che sono penso abbastanza lontani da un problema come Beepop Carrier perché insomma ha coinvolto più generazioni tipo la mia insomma comunque non tanto giovanissime e questo è il motivo per il quale sono qua stasera per parlare un pochino del caso Beepop Carrier a delle persone che ripeto secondo me sono lontani come interessi Allora il tuo nome e ruolo svolto all'interno dell'associazione culturale sono Gianluca Grassi presidente dell'associazione telecitofono la nascita dell'emittente e i suoi relativi problemi iniziali dove nasce l'idea di telecitofono e in cosa consisteva esattamente e con quale attrezzature e con quali servizi avete cominciato scusa la prima domanda era nome e ruolo e ruolo no di questa seconda domanda intendo dove nasce l'idea di telecitofono e in cosa consiste esattamente beh l'idea di telecitofono la nasce nella sua sede come telecitofono l'idea di una telestreet nasce da Andrea che diciamo ha messo in campo questa idea ha già portato avanti da alcune persone in Italia e diciamo è stata l'idea di farla appunto qua a Reggio dopo un'attesa che non so identificare di quanti mesi o anni insomma sia stata esattamente per una serie di motivazioni ci siamo incontrati con altre persone con un gruppo non grandissimo però comunque con alcune persone con alcuni insomma con i soci abbiamo fondato telecitofono prima come esperienza televisiva di strada e poi dopo in seguito come associazione culturale subito non avevano anche la luce elettrica il primo incontro non avevano le sedie nulla poi pian piano sono arrivate un po' tutte le cose diciamo che le attrezzature erano quelle derivate da in parte da un finanziamento universitario che ci permisi di acquisire l'antenna e il trasmettitore la telecamera faceva già parte dell'associazione era già di proprietà dell'associazione non propriamente la nostra e dopo tutto il materiale era portato chi da uno chi dall'altro adesso ricordo che ad esempio un ragazzo che ha collaborato soltanto proprio per la nascita per l'inizio delle prime attività che era Fabio portò un piccolo televisore portatile per misurare in giro per la strada dove prendevamo il segnale della tv e questa piccola televisione portatile per vari mesi è stata requisita dalla nostra, sequestrata proprio dalla nostra associazione mi fa una breve descrizione dell'emittente televisiva con i suoi relativi scopi ed obiettivi in cosa consiste questa telecitofono? racconta la storia del telecitofono collegato telecitofono si è trasformata molto inizialmente era una tv di strada eravamo all'interno della nostra sede stavamo cercando di identificare un nome per iniziare comunque questo progetto non trovando alcun nome che ci convincesse perché comunque alla fine eravamo un gruppo di sclerotici che erano in disaccordo su tutto e praticamente ci mettemmo a giocare col videocitofono della sede e siccome davanti alla nostra strada alla camerina del citofono passavano diverse persone noi ogni volta che passavano le persone urlavamo votate Nando e niente, visto che praticamente questo gioco ci portò via secondo me una mezz'oretta buona facendo divertire un po' tutti così ci venne in mente che forse per essere sulla strada siccome noi eravamo al primo piano il mezzo più diretto era quello del citofono e che attraverso il citofono la telecamerina che si accende ogni volta che qualcuno suona un campanello potevamo mandare in onda per 30 secondi quello che diceva la gente per strada almeno in teoria Iniziative sostenute e relativo materiale prodotto parla di video di oggi in Ucraina telecitofono non è rimasta solo una tv di strada ci siamo trasformati come associazione culturale quindi ci sono diverse soltanto dal punto di vista video ci sono due tipi di materiali uno che è quello telestreet che sono interviste sono comunque materiali diciamo in presa diretta in cui vengono registrati per strada e viene mandato veramente quello che si raccoglie per strada e documentato in questo modo senza grande peripezie tecniche di montaggio di sistemazione del bilanciamento dei colori di tutte queste cose qua c'è altro materiale invece video che vuole essere una produzione video e quindi deve richiedere certi canoni ok non puoi parlare di fila per la democrazia? sì in fila per la democrazia è stato l'inizio di un percorso attorno all'Ucraina nel senso che prima fu un viaggio fatto da cinque membri fondatori dell'associazione che andarono in Ucraina con un pullman di Badanti visitarono il paese appunto delle Badanti e Cernobil aspettiamo un attimo secondo te non entra? vicino a destra non c'era un po' sull'intervista dai fila per la democrazia in fila per la democrazia è diventato corridoio 5 nel senso che è un viaggio in Ucraina un viaggio a Milano ad accompagnare le Badanti che votavano per le presidenziali un viaggio al centro Madre Perla che è un punto di incontro per Badanti di Reggio Emilia tutto questo materiale fotografico, video con l'aiuto di alcuni personaggi insomma del mondo musicale e artistico di Reggio è diventato una mostra corridoio 5 viaggio a ritrosi in Ucraina è stata realizzata all'inizio del 2006 l'Officina delle Arti ed è stata la mostra che finora ha avuto il maggior numero di presenza dello spazio e all'interno c'erano oltre alle foto c'era un video c'era un'installazione c'erano frasi e parole delle donne che abitano Ucraina e che abitano nella nostra città che negli ultimi dieci anni hanno cercato la fortuna o comunque la dignità economica per i loro figli nel nostro paese è stata una riflessione attraverso che ha coinvolto comunque la dimensione ambientale con Cernomi la dimensione umana appunto con le badanti e anche la dimensione credo del paesaggio rispetto a quelle che sono l'immaginario dell'ex Unione Sovietica come mai il cambio di sede? ma perché Lucchino quando ci ha stretto i rubinetti ci ha costretto praticamente a rinunciare alla sede in affitto e noi praticamente siamo rimasti senza sede abbiamo dovuto fermare l'attività ma il cambio di sede a dire la verità il problema è che è un cambio di sede un po' lungo nel senso che doveva essere una cosa fatta nel giro di due mesi tra gennaio 2005 e febbraio 2005 quando il comune appunto ci inviò il contratto via mail dall'ufficio dei musei della nuova locazione dell'officina delle arti il problema è che sembra che al giorno d'oggi a Reggio manchino comunque elettricisti in grado di attaccare dei lampadari fondamentalmente e quindi senza lampadari senza Lucchetto e senza allarme non possiamo partire stiamo aspettando questo spazio ormai da 18 mesi speriamo che insomma di poterci entrare ancora vivi aspettative per il futuro ma aspettative per il futuro è capire quali altri posti sfigati possiamo visitare aspettative per il futuro non sappiamo se tra un anno saremo vivi proprio come associazione oltre che come soci le aspettative sono di breve termine nel senso che io personalmente mi chiedo come sarà l'officina delle immagini lo spazio che apriremo è l'officina delle arti abbiamo comunque attraverso un bando regionale attraverso il quale abbiamo avuto la possibilità abbiamo la possibilità comunque di avere un laboratorio professionale di video ripresa montaggio e anche di creazione di un piccolo studio televisivo all'interno dell'officina delle arti abbiamo il 13 dicembre l'inizio della scuola di etica e politica che continuerà per i primi mesi del 2007 abbiamo un video sul San Lazzaro che abbiamo più volte annunciato nell'arco del 2005 e finora non l'abbiamo realizzato abbiamo un viaggio che è quello in Bosnia che ancora non ha prodotto nulla in termini pratici abbiamo un viaggio che faremo a breve in Serbia che non so se produrrà mai nulla ma sarà un viaggio di attività credo che comunque se ne possono prevedere o realizzare tante tutto sta anche nella forza che avremo di farle soprattutto il tempo perché comunque più il lavoro porta via tempo all'associazione più le attività diventano comunque difficili o impegnative al momento nonostante tutto credo che stiamo ancora reggendo ah scusate abbiamo anche un video e un corso con dei ragazzi che stanno facendo un programma terapeutico per uscire dalla tossicodipendenza e questo diciamo sarà una delle prime produzioni che faremo in questi giorni fine grazie mille come si mette in pausa qui piaccio 30 euro partita aspetta ragazzi un attimo no prego prego il nome è ruolo ruolo all'interno dell'associazione culturale sta girando eh ah io sono Massimo Bassi e sono stato anche io tra i fondatori di telecitofono ero presente prima nell'associazione studentesca che svolgeva già attività all'interno dell'università facoltà di scienza della comunicazione non solo comunque nella sede di Reggio Emilia fino a che intorno al 2003 si è pensata l'idea della tele street della televisione di strada sulla scia di altre iniziative già avviate in ambito nazionale finché nel 2004 poi si è fondata nel febbraio si è avuta la prima trasmissione in onda nostra con l'inaugurazione della sede che durante i margini di tempo dall'idea al concretizzarsi dell'idea è stata trovata insieme a quelle poche attrezzature che c'erano necessarie per partire dove nasce l'idea di telecitofono e in che cosa consiste esattamente l'idea di telecitofono nasce per l'appunto ispirata a altre iniziative già presenti sul territorio nazionale e inoltre io personalmente tenderei a non dimenticare il contesto politico nazionale di quegli anni vale a dire le telestritte in primis sono nate o meglio esistevano già alcune forme simili di emittenza di emittenti clandestine però si sono qualizzate nel momento in cui al potere è andato Berlusconi cioè è andata l'egemonia della comunicazione televisiva e non solo televisiva pertanto l'idea di fondo del coordinamento nazionale di tutte le televisioni di strada era proprio un modo di manifestare il dissenso verso quel tipo di governo quel tipo di ascesa al potere non dimenticando comunque anche quello che sarebbe potuto succedere dopo che questo tipo di governo sarebbe prima o poi ad ogni modo caduto con quale attrezzature con quale servizio avete cominciato e quindi si iniziò con la stessa videocamera che sta riprendendo in questo momento con questo microfono che sto tenendo in mano che era in casa mia direi dal 1998 e utilizzando il videoregistratore che era stato anche quello preso tra virgolette in prestito mai più restituito insieme all'impianto di trasmissione che invece era stato acquistato dai bolognesi che a loro volta avevano aperto Orfeo TV però era nuovo era stato fatto su misura per noi per cui venne un antennista a installarcelo e nel momento in cui l'impianto fu installato dopo si poteva già trasmettere quello che volevamo passando proprio per una presa scarta per cui noi avevamo il videoregistratore ma poi più avanti si è potuto inserire anche un lettore di DVD addirittura incanalavamo del segnale satellitare e via dicendo mi parli di alcune vostre interviste a personaggi famosi? interviste a personaggi famosi beh ce ne sono state tante di diversi tipo c'è la interviste a personaggi famosi mi sono impastato col tè durante soprattutto i primi periodi che facevamo attività come televisione di strada abbiamo incontrato diversi personaggi molto voltinoti della televisione della politica eccetera il nostro obiettivo era soprattutto fino all'inizio dare voce poi anche soprattutto a quei volti che erano spariti nel frattempo dalla televisione generalista che ancora ricordavamo soprattutto dopo l'edito bugaro di Berlusconi pertanto proprio il giorno dell'inaugurazione era stato trasmesso un'intervista fatta a Daniele Luttazzi che era proprio uno dei tre dei primi radiati dal nuovo governo insidiato gli altri due erano ovviamente Santoro e Enzo Biagi intervista a Luttazzi che è stato proprio il nostro biglietto da visita diciamo con i quali ci siamo presentati al nostro pubblico iniziale quasi carta di identità nel senso noi siamo questi vogliamo fare questo per cui quando io mi portavo la videocamera un po' a volte anche senza sapere a cosa mi sarebbe servita per esempio mi è capitato di intervistare Lucarelli in un cinema a Reggio che era poi stato la quale trasmissione era stata pochi minuti prima tolta dal palinsesto la sera prima proprio per cui anche con un po' un caso fortuito riuscimmo a raccogliere la sua in qualche modo la sua protesta poi ci fu un altro volto di quelli che in quel periodo erano letteralmente spariti che era Marco Travaglio invitato a sua volta poi alla stessa facoltà di scienza della comunicazione di Reggio e in più altri volti anche dello spettacolo Antonio Cornacchione piuttosto che anche attori perché c'era questo nostro amico che si è inserito nel gruppo appassionatissimo di teatro nonché attore che girava per i teatri di Reggio della provincia e della regione intervistando in occasione di spettacoli di prosa eccetera c'è un'intervista per esempio a Silvio Orlando e altri moltissimo noti del teatro Manuela Kusterman del cinema come mai non trasmettete più avete sperimentato nuove forme di comunicazione no no cioè allora noi adesso non si trasmette più per motivi tecnici diciamo non c'è più una sede non c'è più un'antenna dalla quale mettere il segnale per cui a questo momento siamo fermi non è ferma comunque l'attività di produzione anche di analisi del sociale del tessuto della città di quello che accade sempre utilizzando il mezzo delle immagini a volte che non sono solo immagini in movimento ma anche semplici non semplici ma fotografie in sostanza per esempio il il lavoro sul viaggio in Ucraina sull'intervista di Rebananti è uscito anche proprio con una mostra fotografica che raccontava poi il viaggio in Ucraina che è stato importante tanto quanto se non di più del video in sostanza ola il loro nome è ruolo svuoto all'interno dell'associazione culturale posso rifare ma dai non ci vengono le ciabattine mi chiamo Andrea Bassi sono il vice presidente dell'associazione culturale telecitofono e quindi come ruolo formale appunto ho questa veste di vice presidente però non non comporta nulla per quanto riguarda il potere decisionale o altro il ruolo che svolgo non è preciso è più è vasto come come mansioni principalmente mi occupo dei contenuti no mi occupo dei contenuti non lo so mi occupo se c'è da suggerimenti innanzitutto ti ringrazio per la domanda il ruolo questo è il mio ruolo in telecitofono anche nel passato nel passato sì vabbè attualmente attualmente sono vesto oltre alla carica di vice presidente carica quasi onorare diciamo vesto anche faccio cosa vesto cosa vesto sono organizer del gruppo meetup di Beppe Grillo a Reggio Emilia che inizialmente ho aperto come telecitofono nel senso che come organizer risultava il nome di telecitofono poi per decisioni successive prese in maniera collegiale dall'associazione si è deciso di togliere il nome di telecitofono dall'organizer e sono diventato io come Andrea organizer del gruppo e quindi per quanto riguarda i contenuti mi occupo delle serate che facciamo alla gabella di via Roma e le serate del gruppo meetup amici di Beppe Grillo Reggio Emilia quindi svolgo un ruolo anche di addetto stampa diciamo perché mando comunicati stampa riguardanti i temi di queste serate e mi occupo appunto di chiamare eventuali relatori degli argomenti ad esempio l'ultimo incontro è stato sul caso Vipop lo scandalo Vipop ex Cassa di Risparmio di Reggio Emilia in cui è intervenuto nel corso della serata il presidente di un'associazione di risparmiatori e piccoli azionisti La nascita dell'emittente come nasce l'idea di telecitofono e cosa consiste esattamente? Allora l'idea di telecitofono nasce come progetto di microtelevisione all'interno dell'università di Modena Reggio Emilia quindi progetto presentato da un'associazione di studenti finanziato dal bando delle associazioni con una modica spesa di 1900 euro abbiamo installato le impianti di trasmissione e siamo riusciti a dare un diciamo a riempire lo spazio che avevamo a disposizione che era quello di una sede per la nostra associazione situata in via Guido da Castello nel centro storico di Reggio Emilia sede che abbiamo avuto per un anno e mezzo se non sbaglio oppure forse erano due anni eh? ah no solo dieci mesi quindi un anno e mezzo un anno e mezzo abbiamo avuto questo spazio eh che se non ci fosse stata la l'idea della televisione di strada sarebbe stato prevalentemente inutilizzato se non per questioni di ufficio eh nostro dell'associazione che poi alla fine sono attività marginali breve descrizione dell'emittente televisiva con l'archiviscopio obiettivo l'obiettivo di telecitofono inizialmente poi per me anche adesso è quello di distruggere la televisione eh mh cioè lo slogan era distruggere la televisione facendola personalmente mh mh per quanto mi riguarda io in parte l'ho distrutta la televisione nel senso che la guardo ho iniziato a guardarla meno dopo che ho iniziato a farla ho iniziato a guardarla meno non sì magari per questioni di tempo però eh cazzo mi suona il telefono che palle è Luca Ferrari beh adesso ti chiamerò il tema allora riparto dallo scopo inizialmente telecitofono aveva come scopo quello di distruggere la televisione distruggerla in che modo cioè come slogan lo slogan era distruggere la televisione facendola e non penso appunto non ci siamo riusciti personalmente io ho cambiato il modo in cui guardo la televisione e di sicuro fare la televisione anche attraverso attività le attività di una tele street ti dà una consapevolezza diversa del mezzo riesce a farti passare dall'altra parte dello schermo cioè tu da spettatore passivo diventi attore e per forza di cose acquisisci un'esperienza di un'esperienza televisiva completamente diversa da quella che è la solita ma hai detto scopi e no vabbè adesso bastano gli scopi bastano gli scopi facciamo iniziative più sostenuti relativamente materiale prodotto ah poi vabbè effetto ti aggiungo una cosa su come nasce il telecitofono diciamo che avevamo come associazione c'era stata assegnata la possibilità cioè c'era stata assegnata una sede cioè la possibilità di prendere in affitto una sede con soldi dell'università poi e questo nell'inverno 2003 nell'estate del 2003 io scrivo una faccio una tesina sul telestreet e successivamente mi viene l'idea di riempire questa questa futura sede dell'associazione con una televisione di strada mi parli delle vostre iniziative che avete sostenuto con l'associazione allora iniziative ok partendo da via guido da castello abbiamo via guido da castello è stata sede di diversi incontri tutti trasmessi in diretta esempi di incontri che abbiamo fatto c'è stata la presentazione di un disco di Massimo Zamboni qui abbiamo avuto un incontro dibattito con tutti i candidati sindaci al comune di Reggio Emilia nell'aprile del 2004 o era il 2003 non mi ricordo no il 2004 abbiamo avuto anche incontri con altri con mi ricordo una serata su Enrico Berlinguer ventennale della morte nel 2004 in cui il senatore Carri del ex senatore del PC è venuto a parlare della figura di Enrico Berlinguer che appunto ha avuto era diciamo lo conosceva da vicino altri basso così aspettative per il futuro aspettative per il futuro allora intanto c'è il progetto della trasmissione di tornare a trasmettere dalla gabella quindi l'idea è quella di montare un'antenna sull'arco di via Roma possibilmente e da lì trasmettere su tutta via Roma in centro storico si tornerebbe a trasmettere gli incontri che l'associazione culturale organizza e ovviamente in diretta più magari con l'ausilio di un computer portatile si trasmetterebbero anche altri filmati altri progetti per il futuro vabbè viaggi ne ha già parlato qualcun altro basta così uno due tre vai salve sono Bonezio Lucchino studente della facoltà di scienza della comunicazione uno due tre vai salve sono Bonezio Lucchino studente della facoltà di scienza della comunicazione presso l'università di Modena in Reggio Emilia e in questo breve filmato tratterò tre tematiche inerenti al pu 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 salve sono Bonezio Lucchino studente della facoltà di scienza della comunicazione presso l'università di Modena in Reggio Emilia e in questo filmato tratterò tre tematiche relative al Microsoft annual report 2005 tra cui informazioni di tipo finanziario relativa all'azienda breve presentazione della linea prodotti software e una breve descrizione della sezione intrattenimento domestico console buona visione Microsoft annual report 2005 informazioni di tipo finanziario nel 2005 il fatturato aziendale è aumentato da 3 bilioni di dollari alla cifra record di 39 79 bilioni negli anni passati il fatturato Microsoft è aumentato del 73% nel mentre sono aumentati gli investimenti nella ricerca e sviluppo del 23% fin dal 2001 è stato aperto il sessantesimo centro di ricerca a Bangalore in India Microsoft annual report 2005 breve presentazione della linea prodotti software diversi nuovi prodotti software emergono dalla nostra produzione Microsoft SQL server 2005 Visual Studio 2005 BitTalk server 2006 Office Small Business Accounting 2006 Microsoft CRLM 3.0 Xbox 360 Windows Vista Office Microsoft Operation Manager 2005 Internet Security Acceleration Server 2004 Virtual Server 2005 Windows Server 2003 Service Pack 1 Microsoft Annual Report 2005 Intrattenimento domestico console La Xbox è una console da gioco prodotta da Microsoft in vendita dal 15 novembre 2001 rappresenta il primo tentativo di entrare nel mercato delle console da parte di Microsoft Microsoft ha realizzato l'Xbox utilizzando materiale tutto sommato analogo a quello presente nei PC standard a differenza di quanto avviene abitualmente nella progettazione delle console per il gioco che invariabilmente adottano una ingegnerizzazione con architettura proprietaria di 1320 quadrati Buongiorno. Buongiorno a una rete maggiore, anche di un dialogo maggiore con altri soggetti, con altre persone, non essere una cerchia ristretta. Comunque tornando alle cose che dovevo fare io, ecco queste due cose, una sul teatro, vissi d'arte, comunque che doveva riguardare non solo attori o attrici ma anche direttori, registi, scenografi, direttori di palcoscenico, tutte le figure del teatro, cantanti dirici, un po' tutti insomma. E poi allargata anche ad altre forme, poteva riguardare anche scrittori, letterati, poeti, centrata comunque sul mondo dell'arte. E poi questa cosa sulle mostre che invece con l'idea di mandare in rete, in video proprio anche le mostre, cioè quadri fermati per alcuni minuti, per alcuni decine di secondi in modo che la gente li possa assaporare anche guardando la televisione, non un servizio di una mostra che dura 5 minuti ma una trammissione di un'ora dove si possono vedere anche i quadri per televisione. Quindi la televisione avrebbe un'altra funzione, altri tempi, altri ritmi, altro rapporto con lo schermo, insomma. Schermo televisivo. Aspettative per il futuro? Aspettative per il futuro? Nessuna, nessuna perché mi sembra che la situazione in questo momento sia totalmente, cioè bisogna rimettersi a discutere, a ragionare cosa si vuole fare. L'idea è di riuscire casomai a trovare un rapporto, a trovare una propria identità, un luogo dove ci siano anche mezzi in modo che ci siano anche uno scambio di idee e produrre anche delle cose. Trovare anche chi ha tempo per seguire le cose anche dal punto di vista tecnico, dove il mezzo è fondamentale, cioè chi li possa per fare riprese, per fare montaggi e così. E poi io vorrei che queste cose che facessi, queste cose che faccio rispetto a questi due progetti, che ce ne potrebbero avere anche molti altri, ma almeno questi due, potessero avere anche un riscontro in altre, non solo per il circuito di televisione di strada, ma anche per le televisioni cosiddette private, in modo da anche venderle, venderle poi alle televisioni private, in modo da non tanto guadagnarci, ma almeno pagarsi le spese, l'impegno che ci si mette e non fare le cose solo gratuitamente. Grazie.